Trento oggi celebra il centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti. Trento festeggia oggi il centenario dell'attentato contro Giacomo Matteotti. La città di Trento commemora oggi il centenario dell'attentato contro Giacomo Matteotti, una delle figure più importanti della resistenza politica italiana nei primi del ventesimo secolo. Matteotti, un prominente socialista e fermo critico del fascismo emergente sotto Benito Mussolini, è stato brutalmente assassinato il 10 giugno 1924. La sua morte ha lasciato un profondo senso di sconvolgimento e segnato una svolta nella storia dell'Italia. Per l'occasione oggi si terranno numerosi eventi e commemorazioni a Trento e in altre parti d'Italia. Giacomo Matteotti è nato nel 1885 a Fratta Polesine e ha iniziato la sua carriera politica nel Partito Socialista Italiano. La sua instancabile lotta per la giustizia sociale e la sua intransigente opposizione al nascente fascismo lo resero un simbolo di resistenza. Già durante la Prima Guerra Mondiale, Matteotti si distinse come critico inflessibile dell'impulso bellico e sostenitore della classe operaia. Dopo la guerra, ha intensificato le sue critiche sull'ascesa del fascismo, il che alla fine ha portato alla sua persecuzione e uccisione. Particolarmente significativo per il coraggio politico di Matteotti è stato il suo famoso discorso al Parlamento Italiano nel maggio 1924, solo poche settimane prima della sua morte. In questo discorso denunciò apertamente la violenza e le manipolazioni elettorali del partito fascista. Il coraggioso resistenza di Matteotti lo rese un bersaglio per i sostenitori di Mussolini. Il 10 giugno 1924 fu rapito e ucciso da teppisti fascisti. Il suo corpo fu trovato solo alcune settimane dopo vicino a Roma. L'omicidio di Giacomo Matteotti ha suscitato in Italia e all'estero una valanga di indignazione. Molti vedevano nella sua morte un chiaro segnale dell'inizio di una dittatura fascista in Italia. L'incidente ha portato a una crisi politica nel paese e a un temporaneo indebolimento di Mussolini, che tuttavia alla fine è riuscito a consolidare ulteriormente il suo potere. L'omicidio di Matteotti è oggi considerato un momento chiave nella storia del fascismo italiano e viene ampiamente visto come simbolo della resistenza ai regimi totalitari. Oggi Giacomo Matteotti è celebrato in Italia come martire della democrazia e della libertà. In occasione del centenario della sua commemorazione si sono tenuti a Trento e in altre città numerosi eventi, tra cui mostre storiche, neè, tavole rotonde e rappresentazioni teatrali che ripercorrono la sua vita e la sua importanza politica. Le celebrazioni commemorativi sono state organizzate da diverse istituzioni politiche e culturali, tra cui la fondazione Giacomo Matteotti e il Museo del Risorgimento e della Resistenza. In una dichiarazione il sindaco di Trento ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo l'eredità di Matteotti. Giacomo Matteotti ha lottato per la verità e la giustizia sociale, ha detto. Il suo coraggio e il suo sacrificio ci ispirano ancora oggi e ci ricordano quanto siano preziose le nostre libertà democratiche. Anche il governo italiano ha partecipato alle celebrazioni commemorative. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto un discorso commovente in cui ha lodato il coraggio di Matteotti e la sua ferma opposizione al fascismo. Giacomo Matteotti ha pagato il prezzo più alto per la sua lotta contro l'ingiustizia, ha detto Mattarella. Il suo lascito ci impone di rimanere sempre vigili e di difendere i principi della democrazia e della libertà. La morte di Matteotti ha avuto un impatto duraturo non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Storici analisti politici vedono nel suo destino una importante lezione su come affrontare l'autoritarismo emergente. Nelle scuole e nelle università la vita e l'opera di Matteotti vengono spesso citate come esempio di coraggio civile e della forza della resistenza individuale. In occasione del centenario della sua commemorazione è stata pubblicata una nuova biografia che approfondisce la vita di Matteotti e il suo lascito politico. Scritto dalla storica Alessandra Tarquini, il libro non si limita soltanto alle lotte politiche di Matteotti, ma analizza anche le sue sfide personali e le condizioni in cui doveva operare. Le celebrazioni commemorative a Trento si concludono con un'offerta simbolica di corone presso un monumento a Matteotti, seguita da un minuto di silenzio. In questo modo si intende mantenere viva la sua memoria e rendere omaggio all'importanza della sua lotta inflessibile per la giustizia. Trento celebra oggi in modo intenso e completo il significativo lascito di un uomo il cui vita e morte sono indissolubilmente legati alla lotta contro l'oppressione e la tirannia. Giacomo Matteotti rimane un esempio luminoso di coraggio e fermezza e il suo lascito continuerà a vivere nelle generazioni future. Anita Faache, lunedì 10 giugno 24.